Allora, io mi sentite? No, perché io preferisco in certi casi parlare un po' in piedi. Allora, io a questa conversazione ho dato un po' appunto, questo titolo è assolutamente banale, Heidegger della filosofia tedesca del Novecento, con però una motivazione. Vi dicevo prima, studiamo Heidegger allo stesso modo in cui lui dice di studiare Aristotele, va bene? Cioè, studiamo, parliamo delle sue opere e parliamo neanche delle sue opere fino a un certo punto e nel contesto in cui queste opere maturano. Ora, libri su Heidegger ce ne sono in infinità, proprio un'assoluta infinità. Però bisogna anche, credo così, riconoscere che molti di questi libri non lo collocano nel contesto filosofico in cui maturano le concezioni di Heidegger. O più esattamente, lo maturano in un contesto filosofico che è, direi, relativamente convenzionale. Si dice che c'è stato lo storicismo, si dice che c'è la fenomenologia di Heidegger, sì, anche quella di Heidegger. Essere e tempo finisce con una lunga citazione della fenomenologia dello spirito, quindi questo non andrebbe dimenticato. C'è la fenomenologia di Husserl, c'è un po' Brentano, e Brentano non guasta mai, e poi c'è un po' di filosofia, così, di teologia cattolica, ma si finisce un po' nelle solite cose convenzionali, che sono dovute, così, a tante ragioni, ma sulle quali, io ora non insisto, se ne potrà parlare poi, Io volevo richiamarvi, appunto, alcuni caposaldi del discorso filosofico che gira per la Germania e in cui maturano le posizioni dei gheriani, il rapporto con il quale matura le posizioni dei gheriani. Un punto sembra banale, ma è abbastanza fondamentale. Heidegger è un filosofo fortemente tedesco, la sua cultura filosofica è calata nella Germania del tempo, con in più un pezzo che è quella della cultura di carattere scolastico, proprio dell'insegnamento che ha ricevuto praticamente in seminario. E, attenzione, per filosofie che non sono tedesche o non appartengono al filone della tradizione tedesca, non c'è, non esiste praticamente. Saranno alcune, così, alcune manifestazioni di interesse. Allora, il primo punto, qual è da tenere presente? Tenere presente proprio le prime opere di Heidegger, lo Heidegger che matura filosoficamente. Io sono abbastanza dell'avviso che il periodo interessante, per capire tutta questa maturazione, è quello che va dai primi testi fino a essere tempo, ma neanche a essere tempo, all'inizio dell'insegnamento a Marburg, cioè nel 23. Questi sono proprio, così, anni chiave. E i testi di Heidegger che devono essere tenuti presenti, sono i testi, proprio le dissertazioni per la laurea, la dissertazione anche per il dottorato, e poi le prime prove di insegnamento di cui abbiamo i testi, alcune recensioni. Però, appunto, questo perché? Perché se si guardano questi testi si vede chiaramente come reagisce Heidegger ai tratti tipici del dibattito filosofico tedesco del tempo. Primo tratto. Allora, quando dico primo novecento, grosso modo, non è che pensiamo al 1900, dobbiamo pensare agli ultimi anni dell'Ottocento, fino a quella cesura fondamentale, che si tende un po' a dimenticare ormai, ma che è la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale, insomma, per la storia tedesca, per la storia di tutto della Germania, è una cesura fondamentale. Allora, il primo punto che bisogna tenere presente, che cos'è? È che la cultura filosofica tedesca è una cultura di filosofia accademica. Il filosofo tedesco è un filosofo di... Attenzione, certo, voi mi direte, abbiamo Nietzsche. Certo, abbiamo Nietzsche e tanti altri, ma non fanno parte dell'Accademia. Ma la cultura filosofica tedesca è una cultura in cui la filosofia accademica ha un grosso peso. La storia, forse voi lo sapete, inizia da lontano, inizia da Settecento. Comunque, è inutile fermarsi sulla preistoria. E in questa cultura filosofica accademica, la parte proprio preponderante è il cosiddetto neocantismo. Con varie diramazioni, sto parlando fino a Ottocento, i primi anni del Novecento, con varie diramazioni, ma sostanzialmente il ritorno a Kant è ormai proprio un motivo dominante nella cultura accademica tedesca. Neocantismo, con varie declinazioni, su cui non c'è tempo per soffermarsi, nel quale è presente anche un certo interesse per Hegel. È il rinnovamento dell'interesse per Hegel data dei primissimi anni del Novecento. Neocantismo è quindi una componente fondamentale. Però, altra componente fondamentale della cultura filosofica tedesca è l'attenzione, che è anche neocantiana, cioè che è fortemente neocantiana, ma non solo neocantiana, per il discorso delle scienze naturali. Le forme di, diciamo pure, di positivismo, se volete, ma in modo molto di positivismo, di empirio criticismo. La figura fondamentale in questo è naturalmente Mach, che però, ecco, a questo punto introduce subito una variante. Quando diciamo Germania, voi lo sapete benissimo, ma comunque ricordiamocelo, noi stiamo parlando di un mondo che parla il tedesco, ma anche con stili filosofici diversi. Il neocantismo è presente fondamentalmente nel Reich, nella Prussia, in parte poi nella parte renana, ma la cultura austriaca è fortemente diffidente dal cantismo. È fortemente diffidente anche per la sua componente cattolica. E vengo subito a un punto su cui ritornerò. Vi anche, però, noi stiamo parlando, io vi sto parlando di una situazione culturale su cui è stata fortissima l'impronta lasciata dal cosiddetto Kulturkampf. Lo scontro fa il mondo protestante e il mondo cattolico, che non tocca la Prussia, non tocca in fondo neanche la Renania, ma il sud della Germania lo tocca, e come? Il Baden-Württemberg, la stessa Baviera. E Heidegger si forma in questo ambiente. Comunque, di Heidegger dovremmo dire qualche cosa, per ora invece sto così richiamandovi alcuni tratti essenziali del dibattito della cultura filosofica tedesca, in cui domina, o almeno è abbastanza forte, diciamo pure, domina abbastanza il confronto con che cosa? Con il problema dell'esautoramento che il discorso scientifico tenta di operare nei confronti della discussione filosofica. La posizione neocantiana, come voi sapete, è articolata, però certamente vi è una forte attenzione per il discorso scientifico. Ma la punta più insidiosa del dibattito scientifico, che mina direttamente la presenza della filosofia nell'insegnamento universitario tedesco, voi sapete che le facoltà di filosofia, cioè, diciamo, l'insegnamento della filosofia, è in pratica tuttora ancora in Germania, è un insegnamento che si aggiunge, cioè, non si poteva laureare in filosofia, bisognava avere una laurea in una disciplina che fosse prevalentemente scientifica, spesso era di carattere medico oppure di scientifica esatta, e poi si aggiunge la laurea in filosofia, cosa che non sarebbe male che fosse così anche nel nostro Paese. Allora, dico, insidioso, particolarmente, per la presenza della filosofia nell'insegnamento universitario, che cos'è? È il grande sviluppo della psicologia scientifica. La psicologia scientifica che si è sviluppata negli ultimi anni, nell'ultimo quarto dell'Ottocento, e che ovviamente tocca questioni che sono questioni direttamente filosofiche, tocca i problemi della conoscenza, tocca anche i problemi della individualità, tocca i problemi della coscienza, della riflessione etica anche. Ovviamente ha una certa forza, d'impatto, per cui, forse l'avete presente, ma comunque nel 1913, nel 1913 vi è un manifesto firmato dai professori di filosofia contro l'assegnazione delle cattedre di filosofia a psicologi. Perché questo? Le motivazioni sono fondamentalmente che si introduce un elemento così di naturalizzazione, diremmo pure così, con un linguaggio che fonde anche abbastanza contemporaneo, nel confronto con tematiche che non possono essere schiacciate su un tipo di analisi scientifica che in più si rileva, è tuttora in evoluzione, che ha delle debolezze metodologiche non trascurabili. Tra i firmatari di questo manifesto antipsicologistico abbiamo, come forse saprete, diversi filosofi neocantiani, fra cui anche Husserl, che nel 1910 ha pubblicato quel manifesto intitolato La filosofia come scienza rigorosa. Neocantismo, interessi per certi aspetti dell'egalismo, quindi l'attenzione naturalmente per il problema della storia, tutto questo tipo di questioni, il grosso atteggiamento polemico nei confronti delle ambizioni della psicologia di esaurire, di esautorare in gran parte il compito della riflessione filosofica. Ebbene, questi sono i temi che percorrono il dibattito filosofico tedesco, ma non sono i soli temi che lo percorrono, perché, ma sono i temi dominanti, però appunto in questo dibattito filosofico della Germania di fino a 800, i primi 900, voi dovete appunto vedere in quale misura, cioè proprio nel confronto con questo tipo di dibattito filosofico, voi vedete quanto è consistente la forza d'urto della posizione, di una posizione alla Nice, ma già anche alcune tematiche sciopenaveriane. Il giovane Heidegger nei confronti di tutto questo, che atteggiamento ha? Il giovane Heidegger, se voi pensate a, forse se avete letto qualche cosa, avete presente qualche cosa, dove inizia a formarsi filosoficamente e che letture compie, con quali problemi si confronta. Giovane Heidegger ha una formazione filosofica che è una formazione filosofica molto, molto tradizionale, ma molto tradizionale in un ambito ben preciso. Studia la prete cattolica, da prete cattolico, ma figlio del sagrestano di Meschier, c'è un giovane promettente, ma va in una sorta di pre-seminario e però studia da prete cattolico in un ambiente in cui sono presenti anche così un atteggiamento se volete di un po' problematico nei confronti di Roma e poi anche nel mondo cattolico vi è questo confronto abbastanza stretto con la concezione con diciamo con il mondo protestante. Però ora appunto queste sono faccio un esempio solo tanto per dirlo uno dei manuali che viene usato laddove Heidegger si forma è un manuale di ontologia che poi è dovuto ad un ad uno studioso di impostazione protestante Karl Brahe ma con questo questo è inutile stare a soffermarsi allora in questa formazione Heidegger viene a contatto con che cosa? Con la filosofia perenne i problemi della ontologia i problemi i trascendentali mistici e ha una formazione che è quella della filosofia perenne fondamentalmente appunto è centrale il problema dell'essere e il problema di che cosa? Della dipendenza creaturale l'uomo è stato creato da Dio a sua immagine e somiglianza la differenza ontologica di cui tanto Heidegger poi parlerà ha questa radice capito? L'uomo è creato da Dio a sua immagine e somiglianza ma qual è lo scarto della creatura nei confronti del suo creatore? In questa formazione Heidegger incontra forse quella che vi faccia anche un minimo di bibliografia intellettuale ma può essere utile incontra una figura che è quella si chiama Karl Gruber e poi Heidegger andrà a cercare la sua protezione quando dovrà essere cercherà di essere riabilitato dopo la seconda guerra mondiale che è una sorta così è un suo istruttore un tutore che poi diventerà arcivescolo di Fiburgo e gli regala lo racconta Heidegger è un po' così forse un po' una biografia leggermente romanzata ma non credo un'autobiografia gli regala il libro di Brentano sui molti significati dell'essere in Aristotele ora capite è un regalo significativo perché un giovane sacerdote cattolico ad un brillante giovanotto di umilissime origini ma che dimostra un'aggressività la stessa aggressività che dimostrerà quando attaccherà Cassirer a Davos nel celeberrimo incontro un giovane sacerdote cattolico che regala a un giovane di belle speranze un libro di Brentano vuol dire che è una mente molto aperta perché perché Brentano è un importante filosofo è una figura importante di è stata una figura importante nell'università di Vienna poi ha abbandonato l'insegnamento universitario perché perché si è spretato perché non è più ha messo in discussione il dogma dell'infallibilità c'è il concilio vaticano dietro ci sono questi problemi proprio di fede e anche di filosofia quindi regala a questo giovane otto il libro di una personalità filosofica che è stata centrale che ha avuto una sua importanza cioè ha avuto una grande importanza nella cultura austriaca le lezioni di Brentano sono seguite come sapete anche da Freud e però non è più legato alla chiesa cattolica pur conoscendo molto bene tutta la filosofia perenne e è quel Brentano che a sua volta è stato allievo di Lozze e è stato allievo anche di Trendelenburg quindi il grandissimo studioso d'Aristotele e che in questo libro sui molteplici significati dell'essere in Aristotele ha gettato delle fondamenta cioè ha gettato le fondamenta certamente ha così dato delle linee importanti su quella che sarà la ricerca di Aristotele anche successivamente quindi gli dà questo libro questo libro in cui che cosa succede ai molteplici significati del problema dell'essere in Aristotele c'è il problema delle categorie Lenze si può dire in molti modi è il discorso che poi Heidegger cercherà farà ci sono proprio dei passi che sono il commento al testo di Brentano in essere e tempo si rifarà direttamente in essere e tempo in cui i molti nomi che possono essere dati all'essere in primo luogo sono i nomi che possono essere dati nel guardarsi intorno e quindi nel guardarsi intorno e nello stare proiettati in una direzione e quindi dove? nelle coordinate spazio-temporali altro sulla scorta del libro di Brentano il giovane Heidegger che lascia il curriculum di formazione religiosa e si iscrive a studiare si iscrive all'università di Friburgo dove è incerto per studiare la storia della storia medievale o addirittura c'è anche degli interessi anche matematici nei primissimi anni di università che cosa fa? e questo ce lo racconta Heidegger ma è vero perché poi cioè al di là dei racconti ci sono i riscontri fattuali non del fatto che avesse preso a prestito il libro quale libro? le ricerche logiche di Husser ma che ci sono proprio nei testi di Heidegger ci sono le riprove oggettive io ce l'ho questo scusate la piccolissima parentesi graffa la storia della filosofia non si deve servire dell'esistenza di un libro in una biblioteca di un signore di un professore o di un filosofo ma si deve accertarsi che l'abbia davvero letto e che ci siano dei riscontri concettuali questo mi sembra evidente torno al punto di prima prende e va in biblioteca prende a prestito perché ha visto che Brentano è stato importante per Husser lo legge nelle recensioni nelle discussioni che ci sono del tempo e prende a prestito le ricerche logiche di Husser che erano state pubblicate quindi siamo negli anni immediatamente precedenti la prima guerra siamo nel 5, 6, 7 gli anni che precedono di poco la prima guerra mondiale prende a prestito le ricerche logiche di Husser e che poi non ha letto solo a questo punto il Brentano dei livolteplici significati dell'essere ma ha letto anche il Brentano sul Nus Poietikos che è un libro sulla diciamo sull'aspetto sulla psicologia descrittiva di Aristotele e sull'importanza che Aristotele dà alla psicologia voi sapete il peripsuches come inizia è la cosa più importante una scienza direttamente importante quanto è importante il soggetto e quindi la psicologia è la scienza filosofica più importante e ha letto anche che cosa ha letto la psicologia dal punto di vista empirico pubblicata nel 1874 e in cui l'ha letta perché l'ha andata a guardare perché nelle discussioni nelle recensioni delle ricerche logiche e c'è una recensione importantissima e subito ora vi dico viene sottolineato il rapporto di Husserl con Brentano su quale tema sul tema dell'analisi psicologica descrittiva e sul tema della intenzionalità che Husserl stesso rivendica di avere desunto da Brentano che cosa è importante fra le recensioni delle ricerche logiche che il giovane Heidegger legge e della prima edizione delle ricerche logiche 1900 non 1913 perché ci sono differenze fra le edizioni c'è una recensione importantissima di Paul Nathorp Paul Nathorp che è una delle importanti figure del neocantismo ebreo vicino ai socialisti cosiddetti della cattedra che nel 15 pubblica un libro tremendo dicertativo di assimilazione degli ebrei alla Germania e addirittura in cui mette insieme il Lutero notoriamente antisemita con i profeti di Israele addirittura ma per capire lo sbandamento cosa significa la prima guerra mondiale comunque Paul Nathorp ha recensito le ricerche logiche di Husserl sottolineando che cosa la sua piena adesione all'antipsicologismo di Husserl cioè l'antipsicologismo di Husserl che cosa vuol dire vuol dire lo sapete la logica non è non cioè le leggi logiche non possono nascere dall'abitudine non hanno una storia evolutiva ci sono ecco ora detto in una maniera un po' brutale ecco Heidegger è colpito da tutto questo è colpito perché è colpito perché da una parte appunto vi è questa tradizione della filosofia perenne che alla luce del testo di Brentano viene rinnovata viene così a un alto respiro non sono tutte le concatenazioni così complicate della scolastica ma c'è il realismo si dice di Brentano che descrive quella che è la vita della psiche realismo che vuol dire poi anche anticantismo ma questo ne parleremo se no diciamo si mettono troppe cose a fuoco quello che volevo mettere a fuoco specialmente è quello è un punto che mi interessa molto mettere a fuoco io ancora dieci minuti poi mi interrompo perché se no hanno seduto tre quarti d'ora si va bene insomma comunque fra dieci minuti un quarto d'ora poi magari riprendiamo dicevo qual è il punto che voglio toccare il rapporto con Husser con la fenomenologia perché è il punto più importante anche pieno di leggende anche su questo va sottolineato allora comunque Brentano è importante agli occhi di Heidegger è importante perché lo fa arrivare anche a Husser allo Husser delle ricerche logiche dove appunto specialmente nella prima i cosiddetti prolegomini analogica pura e poi nelle ricerche successive ma fermiamoci un momento sui prolegomini viene condotta diciamo pure una battaglia decisa contro che cosa? contro il cosiddetto psicologismo logico cioè la psicologia non può pretendere non ha ragioni per attaccare il carattere diciamo atemporale delle leggi logiche perché questo non si dimostra non ha senso non regge e naturalmente il discorso cioè il discorso Husserliano è un discorso che è ancorato fortemente a che cosa? a quello che potremmo dire il matematismo di Husserl il fatto che Husserl voi se lo ricordate è stato allievo di Weierstrass ha studiato anche l'astronomia e questa sua centrale importanza assegnata alla matematica rimarrà per tutta quanta la vita però appunto la polemica decisa di Husserl contro la possibilità di spiegare psicologicamente geneticamente dice Husserl le ricerche e le leggi logiche si accompagna a che cosa? si accompagna a il programma che Husserl intende sviluppare nelle varie nelle sei ricerche logiche che seguono i prolegomini ad una logica pura e in cui Husserl che cosa dice? dice che una volta che sia chiaro che le leggi logiche sono diciamo atemporali va bene? la logica addirittura Husserl riprende una formula di Herbert una sorta di morale del pensiero di morale prescrittiva del pensiero o di morale anche allacante se vogliamo per cui noi abbiamo degli imperativi a cui rispondiamo la logica però deve cioè nello stesso momento è necessario però prendere atto di che cosa? Prendere atto che le idealità dice Husserl eh? le leggi logiche in primo luogo assumono una concretezza reale eh? vengono adoperate nella esperienza vissuta nell'esperienza di tutti i giorni eh? dice Husserl con una formula di realisierung la realizzazione positiva des idealen dell'ideale nello erlebnis il termine erlebnis è inquinato ancora un po' meno a suo tempo veniva usato certo anche lo studente di erlebnis da tutte le parti ora c'è un po' meno insomma comunque nell'esperienza così come essa si dà cioè il discorso che Husserl fa qual è? Indubbiamente le leggi logiche hanno un carattere di atemporalità come gli enti matematici hanno un carattere di atemporalità però noi in qualche maniera le adoperiamo e allora il compito della quella che Husserl allora nella prima edizione delle ricerche logiche chiama psicologia descrittiva e che poi prenderà il nome di fenomenologia successivamente il compito della psicologia descrittiva deve essere di vedere come queste leggi logiche vengono adoperate come prendono concretezza come appunto viene a compiersi il riempimento dei significati come si istituisce il rapporto fra gli atti e i contenuti il lavoro che deve essere compiuto è quindi quello dell'analisi diciamo l'analisi nel modo in cui si danno e operano nella costituzione in primo luogo del linguaggio nella formazione del grammaticale nella definizione dei rapporti fra le parti e l'intero e così via come appunto le leggi logiche vengono messe a frutto vengono adoperate nella concretezza specifica dell'esperienza il motivo conduttore del discorso custerliano forse voi lo sapete è questo motivo della intenzionalità è della intenzionalità nel senso di andare a esaminare come l'atto di pensiero si dirige verso un certo a un certo contenuto e si dirige verso il riempimento che ha nel una volta che coglie afferra l'oggetto ho detto che parlo ancora per poco ma alcune cose importanti credo che vadano dette questo tipo di atteggiamento che cosa porta a mettere in evidenza porta a mettere in evidenza l'importanza centrale di analisi del modo in cui si dà concretamente la nostra esperienza conoscitiva ma anche porta anche a riflettere con molta attenzione con molta importanza a cosa è oggetto a che cosa si costituisce il punto di riferimento della nostra attività di pensiero cioè lo dico più direttamente quello che interessa Husserl e di riflesso interesserà poi anche Heidegger è la definizione cioè l'individuazione la messa a fuoco di quello che poi noi diremo è invalso in modo così una denominazione abbastanza corrente il terzo mondo cioè in Husserl e poi in Heidegger e poi in un terzo personaggio che ora dovrò evocare un momento e che su cui è stato detto no lo evoco però fra un momento è meglio ecco in Husserl e in primo luogo in Husserl l'attenzione quindi va verso che cosa verso il modo in cui noi ci troviamo di fronte ad una strutturazione della realtà conoscitiva che è diciamo il prendere consistenza l'innervare strutturazioni innervate dalle leggi logiche innervate dalle relazioni e che sono tali da imporre da parte nostra il riconoscimento e nello stesso momento sono tali da imporre un riconoscimento di carattere diciamo pure intersoggettivo mi spiego meglio mi spiego meglio perché se no il discorso diventa molto nebuloso sono quel tipo di situazioni quel tipo di oggetti di cui si può parlare che sono quelli che voi trovate come definiti come stati di cose o più esattamente come relazioni tra le cose quello che è relazioni tra le cose che sono le strutture di carattere teorico con cui noi possiamo definire pezzi di realtà possono essere le strutture di carattere linguistico possono essere le strutture di carattere giuridico possono essere le strutture anche di valutazione estetica questo tipo di relazioni è quello verso cui si indirizza l'interesse fondamentale di Husserl e nei cui confronti l'atteggiamento di Heidegger è di forte attenzione è di forte attenzione ed è un atteggiamento che Heidegger mette a fuoco in particolare nelle sue dissertazioni e dissertazioni sul problema del giudizio dello psicologismo e poi il testo che Heidegger dedica a Don Scoto e che poi in realtà la grammatica speculativa che non è di Don Scoto però c'è un punto fondamentale su questo poi voglio soffermarmi per concludere che il discorso di Heidegger è nei confronti di quello husserliano è un discorso di chi è molto interessato all'aspetto della intenzionalità è molto interessato all'attenzione che Husserl dà alle strutturazioni della nostra esperienza si è detto che la fenomenologia husserliana ha dei rapporti strutturali dei rapporti diciamo di sintonia con la psicologia della Gestalt ma soprattutto il discorso condotto da Husserl è abbastanza vicino se ci pensate quando ho parlato degli stati di cose a quello di Wittgenstein e di fatti sul background comune fra Wittgenstein e Husserl è stato scritto abbastanza però è un altro il punto su cui ora voglio concludere queste considerazioni molto impressionistiche sono i primi a riconoscere ovviamente allora in Husserl che cosa succede fondamentalmente che questa attenzione per l'atto intenzionale questa attenzione per la proiezione dell'atto verso un contenuto e verso poi il suo riempimento nello Husserl delle ricerche logiche ha il carattere di una psicologia descrittiva Husserl parla di psicologia descrittiva cioè sostanzialmente è una ricognizione dei modi in cui i miei atti conoscitivi hanno una direzione di senso va bene si volgono nel guardare da una certa parte e poi vengono riempiti con un significato allora ricordiamoci che in tedesco Sinn sta proprio a indicare proprio la direzione beh Deutung si traduce come significato perché non si può tradurre come altrimenti ma vuol dire ciò cioè Deutung vuol dire interpretare capito capire cercare di spiegare quel senso Deutung proprio vuol dire proprio l'interpretazione quindi in Husserl c'è questa forte attenzione per questa che viene chiamata appunto la caratteristica della conoscenza come fondamentale in genere la nostra attività mentale come intenzionale quindi come diretta ad un riempimento e Husserl compie una ricognizione non so se a 360 gradi ma molto ampia nelle sue ricerche logiche in cui andando a esaminare il modo in cui si costituisce il contenuto di questi nostri atti noi vediamo realizzare e prendere concretezza l'idealità nelle attività nella esperienza ma Husserl ha un problema almeno lui ritiene che ci sia un problema che questa descrizione degli atti deve fare leva su qualcosa e su noi stiamo parlando di intenzionalità di che cosa della coscienza capito deve fare leva su diciamo un momento di verifica del sapere qualche cosa guardate fra la fenomenologia di Husserl e quella di Hegel non c'è nessun rapporto diretto ma se voi leggete l'introduzione alla fenomenologia dello spirito di Hegel voi vedete che il problema della wahrneemung della percezione del prendere qualche cosa come vero non è in realtà assolutamente lontano dal discorso serliano sull'intenzionalità va bene e ci sarà e questo spiega come ci sia nella filosofia americana contemporanea tanti studiosi che si sono formati alla fenomenologia e poi si sono approdati a riscoprire Hegel va bene scusate ho fatto una parentesi però su questo Husserl ha un problema almeno lo sente come un problema qual è se appunto il carattere del nostro star nel mondo un termine del guerriano ma comunque il nostro conoscere è quello della proiezione intenzionale quello di avere di essere diretti verso un qualche cosa con un contenuto e poi di vedere se quello che sta davanti a me proprio lo riempie come me l'aspettavo è questo un atteggiamento che porterà Husserl a fare che cosa a riscoprire Kant e a confrontarsi con Kant e sostanzialmente a approfondire il lavoro sulla dimensione della coscienza della coscienza non Gewissen come ma Bewusstsein cioè l'essere che è il sapersi diciamo pure così capito è proprio la coscienza in questa maniera non il Gewissen mi accorgo di qualche cosa proprio l'ho messo a fuoco ne sono come si dice consapevoli questo allora porterà che Husserl sente questo tipo di problema guardate Husserl è filosoficamente ingenuo c'è poco da fare io non lo capisco si è perso un'infinità di tempo anche tutti questi che vanno a studiarsi i manoscritti di Husserl ma filosoficamente è ingenuo Husserl c'è poco da fare non è smaliziato ecco e Heidegger questo lo capisce benissimo e di tanto è vero e quindi Husserl ha questo tipo di problema questo tipo di problema lo porta a che cosa a mettere sempre più l'accento sulla dimensione della coscienza fino ad arrivare già con le idee per una fenomenologia pura del 1913 a parlare di io penso a parlare di io a parlare di coscienzialità cosa che irrigidisce Heidegger Heidegger si irrigidisce su questo punto perché è convinto dell'importantissimo lavoro di descrizione degli atti conoscitivi che noi compiamo va bene ma sono atti conoscitivi su cui che mettono nello stesso modo il momento in evidenza quanto in realtà potremmo dire la coscienza è molto sfrangiata non è così un punto di messa a fuoco è in continuo movimento è in continuo cambiamento è afflitta costitutivamente dalla temporarità in questo ci sarebbe da dire e certi fatti sullo sfondo c'è un pezzo di filosofia americana William James e in realtà il discorso questo sarebbe interessante ma lo lasciamo da parte però ecco su questo punto Heidegger non è d'accordo per quale ragione perché ritiene che quello che Husserl ha detto sull'intenzionalità vada al di là dello stesso discorso brentaniano e che diciamo è il discorso che Husserl ha fatto sull'intenzionalità si carica troppo di contenuti coscienziali si carica di un iper soggettivismo se volete mentre il prezzo da pagare per la atemporalità delle leggi logiche per la temporalità del pensiero è quello della relativizzazione assoluta del soggettivismo individualistico quando vi dico che la fenomenologia dello spirito dieci pagine della fenomenologia dello spirito di Heidegger concludono essere tempo anche se poi doveva scrivere l'altra metà ma insomma è concluso vuol dire qualche cosa questo vuol dire certamente qualche cosa quindi appunto il rapporto con Husserl su questo punto è un rapporto che è un rapporto di fortissima diciamo fortissima incontro ma nello stesso tempo di rottura il diciamo il soggettivismo coscienzialistico di Husserl non convince assolutamente Heidegger e un ultimo punto su cui voglio soffermarmi e poi così in modo abbiamo un po' di tempo per discutere mi sembra va bene se abbiamo alle 5 e mezzo dobbiamo finire quindi se abbiamo un'oretta poi perché sono tante cose che poi si affrontano meglio anche nella discussione ecco voi mi direte cioè mi direte ho insistito su questo aspetto del rapporto con Husserl ho insistito su questo aspetto sulla interpretazione che diciamo sulla lontananza di Heidegger rispetto alla posizione husserliana nei confronti della soggettività coscienziale che prende consistenza e si mette a fuoco nel modo in cui Heidegger interpreta l'intenzionalità l'intenzionalità questo lo dico proprio in un modo sintetico poi ci torniamo più avanti ci torniamo se si fa un po' di discussione l'intenzionalità per Heidegger è la chiave proprio per capire per mettere a fuoco il fatto che siamo costituzionalmente legati alla temporalità che il nostro essere è temporalità l'intenzionalità non apre la via l'accesso ad una bella coscienza ma ci fa vedere come siamo consegnati alla finitezza delle nostre operazioni conoscitive vengo però all'ultimo punto perché in tutte le considerazioni che ho fatto brevi quanto volete ma insomma comunque ho fatte vi è così diciamo un convitato di pietra se volete o almeno c'era così c'era da chiamare in causa e appunto ora lo chiamo in causa una parte fondamentale della formazione e dell'atteggiamento heideggeriano il rapporto con la religione il rapporto con il problema teologico perché questo tipo di rapporto è un rapporto assolutamente fondamentale Heidegger non è un pensatore cioè è indubbiamente un pensatore non religioso ma che si si confronta fortemente con il problema della religione con il problema della teologia non solo per le sue origini ma proprio perché lo ritiene insomma lo ritiene non è una grande scoperta ma comunque ritiene fondamentale confrontarsi con questa dimensione ora vedete ho detto la formazione di Heidegger nasce in un contesto di carattere proprio di formazione scolastica di formazione scolastica nel senso della tradizione scolastica confronto col tomismo però nasce anche sotto appunto la pressione di un mondo cattolico che si confronta con il mondo protestante ma non si confronta solo con il mondo protestante ma si confronta in generale con quello che è un tratto tipico poi di tutto il pensiero teologico del novecento la questione diciamo pure della messa in discussione di una mediazione fra la creatura e il Padre Eterno cioè diciamo pure l'esperienza diretta della trascendenza della dimensione religiosa per Heidegger ha una importanza notevolissima non voglio dire fondamentale ma comunque il confronto con un testo che è stato tradotto in italiano tanto tempo fa è bene tradotto da Ernesto Buonaiuti una delle figure del modernismo italiano che è il libro di Rudolf Otto sul sacro Das Heidegger è un libro che esce nel 1917 in pieno periodo alla fine della prima guerra mondiale esce insieme a Das Prinzip Hoffnung di Bloch il principio speranza di Bloch esce insieme a degli scritti di Lukacs che ha dei punti di consonanza il giovane Lukacs come con Heidegger comunque è questo testo che per Heidegger è importante ma è importante perché sono importanti tante altre cose cioè che cosa fra tutti diciamo gli aspetti del pensiero della riflessione intorno diciamo pure intorno al pensiero logico che Heidegger può compiere può compiere sulla spinta in confronto con Husserl e con la nascente fenomenologia c'è però un aspetto della discussione intorno alla problematica logica che in Husserl non appare mai e che per appare poco e che per Heidegger è assolutamente importante ed è assolutamente importante perché lo lega così attraverso Brentano Aristotele ma ancora anche a Platone problema della negazione il problema della negazione per Heidegger diventa prestissimo un problema fondamentale se noi prendiamo la dissertazione di Heidegger sul giudizio che è il suo primo scritto è una tesi di laurea però è una tesi di laurea di un giovanotto che indubbiamente ha una grande testa vediamo che è centrale il problema della negazione d'altra parte voi pensate quanto è centrale in Platone il problema della negazione come è centrale in Aristotele come tutta la filosofia antica e ci sono dei passi del libro di Brentano sulle categorie di Aristotele dove si chiama in causa che cosa? il sofista per discutere della negazione e lo si chiama in causa quel sofista che poi è all'inizio di essere il tempo c'è una lunga citazione in cui si parla della gigantomachia per Ita e Susias della grande battaglia intorno alla natura dell'essere così come si dà la sostanza l'essenza non si sa come tradurlo ma l'essere è che è lì capito e quindi l'interesse di Heidegger su questo è fortissimo è un interesse fortissimo che non trova che è chiaramente il segno di una sua differenza diciamo pure costituzionale rispetto alla fenomenologia posteriore bensì è il segno però nel stesso momento è il segno della sua vicinanza a Brentano e al problema dell'essere nella tradizione dell'Occidente ma prima e forse anche non poi così presente nella filosofia scolastica se non in aspetti della filosofia scolastica che non sono quelli della filosofia perenne Occam e particolarmente scolto cioè che cosa succede quando si nega e il negare è un'operazione fondamentale della conoscenza è il da capo noi vediamo Hegel sullo sfondo ovviamente è il poter pensare che le cose stiano in un altro modo è la possibilità di passare attraverso la negazione per affermare qualche cosa Hegel Spinoza omnis determinatis negatio metteteceli tutti insomma però per Heidegger questo è fondamentale è fondamentale e non gli viene assolutamente dalla fenomenologia australiana da quella che sta diventando la fenomenologia australiana ma da alcuni pensatori neocantiani da alcuni pensatori neocantiani che appunto in Kant e poi in Hegel è come se non si sono confrontati con il problema del nulla con il problema della negazione e poi con quello che può portare nella direzione del nulla allora lì voi vedete che per Heidegger questo è così si apre una una finestra si apre un portone amplissimo insomma nella direzione dell'attenzione per tutto un pezzo della discussione filosofica se si guarda l'antichità e del dibattito teologico religioso contemporaneo in cui il problema della negazione diventa diventa il problema di che cosa del nichilismo e quindi un pezzo della filosofia dell'idealismo e Schelling che voi vedete Schelling che poi avrà sarà oggetto di un grande libro di Heidegger quello sulle ricerche filosofiche di Schelling sull'essenza della libertà umana vuol dire l'idealismo classico tedesco Schelling vuol dire Hegel e poi quello che viene considerato il primo che qualcuno dice di essere allora viene detto il primo filosofo della Germania è chi è Meister Eckhart cioè la mistica negativa che vuol dire non tanto l'areopagita ma vuol dire fondamentalmente Eckhart Eckhart che dice Dio è nulla capito addirittura capito quindi questo è tutto un settore in cui Heidegger lavora e da cui Heidegger è diciamo pure è turbato è preso e l'interesse per che cosa quindi per quelle grandi situazioni dice Heidegger situazioni limite in cui l'uomo si trova di fronte ad esperienze radicali e situazioni limiti in cui emerge che cosa la dimensione del dice Heidegger la ruinanza il vero e proprio rovinio quando appunto non sono cose belle ma insomma quando appunto come risucchiato dal senso della finitezza dal senso della finitezza dalla disperazione dall'angoscia capito e quindi questo che cosa vuol dire il fortissimo interesse per Kierkegaard e il confronto con Jaspers nei cui confronti Heidegger è sprezzante cioè la recensione che Heidegger fa al libro di Jaspers sulla psicologia delle visioni del mondo è durissima Jaspers rimase proprio sconvolto e quindi la dimensione per le situazioni limite nelle quali ci può anche essere di che cosa l'esperienza della dimensione del sacro di qualche cosa che è completamente al di là di cui non si sa dire nulla che è il luminoso e quindi l'interesse di Heidegger per che cosa per l'esperienza proprio cristiana l'attesa del come si chiama del messia l'attenzione per il Kairos per il momento giusto in cui succederà qualche cosa cioè tutte situazioni in cui viene messo a fuoco per Heidegger che legge questi testi che legge che cosa fondamentalmente non legge più la Bibbia il Vecchio Testamento ma legge il Nuovo Testamento e specialmente legge le Epistole di Paolo dove che cosa accade accade che viene messo in evidenza viene messa sottolineata una dimensione della diciamo usiamo il termine hegeriano dell'essere del mondo come noi stiamo nella realtà delle cose pensando a qualche cosa che è al di là del momento in cui noi siamo di qualche cosa che non è ancora e dice Heidegger è caratteristico del nostro sta nel mondo proprio questo il potere sentire che ci sarà cioè che non siamo ancora in quel punto che possono essere le cose diverse da come sono in questo momento tutte queste varie forme del non essere legati a che cosa allo yes all'adesso è un tema che noi troviamo anche in Kierkegaard questo tutte queste varie forme prendono anche consistenza in che cosa nell'attesa nella parousia nei testi della tradizione cristiana fondamentalmente e si risolvono in che cosa però nell'esperienza di qualche cosa che trascende il nostro essere però e non ci riduce al pure e semplice e cioè che fa trascendere il nostro pure e semplice essere biologico perché non abbiamo l'atteggiamento dell'animale che non sa ancora che cosa succederà e che vuol vivere dice Heidegger la più beata inconsapevolezza di cosa succede mentre noi attendiamo che succeda qualche cosa anche se poi il dramma la tragedia chiamato come volete è sapere che qualche cosa che accade a un certo punto porta alla nostra stessa consunzione quindi il momento della negazione per Heidegger il momento dell'operazione conoscitiva l'operazione anche logica della negazione è legato alla nostra stessa consistenza ontologica fatta della consapevolezza di essere tutti quanti legati al tempo ancorchese nella finitezza non nella eternità e voi vedete quindi questo è un punto in cui e ovviamente si intreccia il discorso di Heidegger anche con quello hegeliano con quello di alcuni pezzi dell'edilismo classico tedesco in primo luogo con Schelling e di fronte al quale l'atteggiamento di Heidegger è anche di chi si confronta in continuazione con la grande tradizione filosofica tedesca della mistica la mistica ma la mistica di Eckhart la mistica appunto radicale quella per cui Dio è in nulla non sono in grado di dire niente e guardate su questo ricordate del resto mistica che cosa viene da mio tacere capito è il silenzio e basta come si prendete appunto i mistici questi più spagnoli come Giovanni della Croce ci dice questo ma non è che nel far questo Heidegger è poi tanto originale perché se voi guardate appunto e con questo vi dice credo che sia opportuno sottolineare se voi guardate così diciamo ne ho scritto le librerie della Germania di immediatamente prima della prima guerra mondiale per non parlare poi dopo della seconda guerra mondiale pullano di libri di mistica pullano di libri sull'esperienza mistica sull'esperienza radicale sulla revoca se volete di ogni forma di organizzazione chiesastica e naturalmente tutto questo vuol dire anche un pullulare di sincretismi di carattere religioso ed è una componente fondamentale della discussione heideggeriana non perché Heidegger sia mistico assolutamente no assolutamente no e con questo poi concludo però appunto vi è l'interesse questo fondamentale per appunto quelle situazioni limite che sono state indagate dal suo così amico anche i Aspers che però per Heidegger non mettono in evidenza diciamo quello che è l'umanità fondamentale no mettono in evidenza appunto che cosa il nostro essere sbattuti nel mondo è la Gewürfenheit che è capito e di sapere proprio riflettendo sul modo in cui noi conosciamo che il nostro essere è legato e coincide con la nostra limitata temporalità su questa strada Heidegger arriverà anche a dire io ho riscoperto Kant perché Kant lo intende come un pensatore della finitezza e in fondo su questo credo anche abbia abbastanza ragione io ho parlato un po' più del previsto quindi ora mi zittisco e insomma se le questioni ce ne sono tante lo so che l'ho tagliata con l'accetta e anche in modo anche un po' se volete un po' troppo impressionistico però ecco voglio cercare di riportare il discorso heideggeriano appunto come Aristotele visse nacque visse e poi morì va bene se ci sono delle domande bene se no appunto approfondisco con delle finestre altri argomenti ma le domande ci sono sicuramente ecco ecco allora facciamo una cosa le scriviamo no vabbè insomma tanto facciamo così vabbè allora microfono forse bene si sentiva bene quando parlavo prova si sente volevo chiederle il peso che ha avuto il concetto di epoché di epoché il concetto di epoché il concetto usserliano di epoché nella filosofia di usser ma soprattutto nella reazione di heidegger a usserl perché io penso ritengo che l'epoca intesa come sospensione del giudizio sia stato un motivo tra i tanti che ha spinto poi heidegger a seguire una strada diversa da quella del coscienzialismo soggettivistico di usserl questa strada è una strada che conduce come lei giustamente ha detto verso la rivalutazione del sacro della disposizione a concepire qualcosa di superiore all'essere finito transeunte come si concilia allora in heidegger questa ricerca di un orizzonte più ampio con il suo attaccamento quasi morboso e assillante ripetuto continuamente alla finitudine mi sembra una contraddizione stridente e mi sembra soprattutto la molla che ha spostato heidegger dalle posizioni originarie di tipo esistenzialistico incentrate sull'analitica dell'esistenza verso invece quei nuovi orizzonti quei nuovi tentativi di apertura del senso dell'essere che sono racchiusi nelle opere quelle della tarda maturità per non citare poi addirittura l'intervista a Der Spiegel ormai solo un Dio ci può salvare se mi può aiutare a districare questo noto impegnativo ora facciamo anche un'altra domanda e così vediamo non so sono le stesse questioni oppure sono questioni diverse è un'altra questione è un'altra questione allora andiamo avanti perché se no si rischia di confondere ecco allora sa io credo abbastanza questo e allora l'intervista famosa a Der Spiegel è un'intervista così come al solito insomma in Heidegger c'è sempre un elemento fondamentale di ambiguità ecco ma d'altra parte questo non può essere escluso che ci sia anche così diciamo un Heidegger anziano che un po' cambia idea ecco è come l'innominato ecco questo non possiamo escludere ma diciamo pure non non so quanti elementi ci sono al riguardo per decidere però ecco invece il problema che lei poneva è appunto un problema abbastanza centrale cioè io direi ecco che il discorso heideggeriano è quello che stavo dicendo era questo ecco ma dove ho detto guarda proprio per si può per essere un po' non sbrigativi per rispondere sbrigativamente per mettere a fuoco la questione Heidegger non è materialista su questo è in dubbio va bene e però nello stesso tempo è radicalmente se volete negativo diciamo pessimista sulla dimensione del sulle caratteristiche della natura umana cioè trova ecco mette in evidenza il fatto che nella nostra costituzione d'essere noi abbiamo appunto la possibilità del negare non viviamo nella inconsapevolezza ma questa non inconsapevolezza è la consapevolezza della nostra finitezza con un'operazione come quella husserliana come quella dell'epochè per cui ci poniamo in definitiva il discorso husserliano dell'epochè è quella di porsi in una dimensione di trascendenza e di diciamo di detemporalizzazione se vogliamo ma coscienzialistica come coscienzialistica coscienzialistica un ritirarsi ma di poter guardare stando fuori dal tempo ma di poter guardare la coscienza si però capito però appunto è rinunciataria come posizione quella di husserl si quella di è rinunciataria ma nello stesso tempo è la possibilità di fondarsi sulla coscienza capito è questo come io noi viviamo dentro la metafora del piccolo paese i sogni del visionario con i sogni della metafisica rientriamo nei confini di un piccolo paese almeno qui siamo al sicuro appunto ma Heidegger questa diciamo è un'illusione capito è un'illusione ma dicevo quello che lei sta dicendo è una cosa importante nel momento in cui sulla strada dell'epochè sulla strada del discorso che viene fatto nelle idee Husserl arriva ad avere un atteggiamento di diciamo di maggior interesse per Kant un atteggiamento se volete ingenuo capito perché interpreta la cosiddetta rivoluzione copernicana in una certa maniera è portato a questo da che cosa dal fatto che con Nathorp che è una figura assai importante in questo contesto che sarà quello che poi vorrà chiamare Heidegger a Marburg con Nathorp ha una sintonia sul piano della indagine della coscienza Husserl e quindi si trova a convergere un po' con quello che lui ritiene il discorso kantiano va bene non per nulla Heidegger che cosa farà nel 1929 pubblica quel libro che indubbiamente è uno dei più grandi libri su Kant che possa essere stato scritto capito in cui dice benissimo quel discorso kantiano è il discorso che però sottolinea fortemente che cosa il fatto che noi siamo nella finitezza e il problema della metafisica e la metafisica così come messa in evidenza nella posizione kantiana in realtà appunto è una sorta se vogliamo di illusione è una dimostrazione della nostra finitezza lì appunto quello è un diciamo quel testo è fondamentale proprio per capire come per interposta persona lui prende le distanze da Husserl come già era avvenuto prima però in un altro libro il cui il retroterra è quasi odioso perché Heidegger dal punto di vista umano è un uomo di una notevole così insomma bassezza anche proprio in quale libro nel libro che pubblica nel 28 allora voi pensate le date 27 essere e tempo 28 le lezioni sulla coscienza interiore del tempo 29 logica e fornale trascendentale di Husserl che appaiono tutti nell'annuario nello jarbook nella rivista ufficiale della scuola fenomenologica di Husserl ora Husserl insomma ha fiori di allievi c'è anche Oscar Becker che è una figura molto importante che pubblica il libro sui fondamenti della matematica nello stesso anno in cui appare essere e tempo nello jarbook di Husserl allora vi dicevo nel 28 che cosa pubblica Heidegger è figura edito da Heidegger le lezioni di Husserl sulla coscienza interiore del tempo in realtà Heidegger non ha lavorato a quella redazione ci ha fatto lavorare Edith Stein con cui lui è in frizione perché la Edith Stein è ebrea e sta passando sta convertendosi al cattolicesimo Morrauschwitz non lo sapete e Roman Ingarden che è un filosofo polacco che ha fatto conoscere Bergson un po' a Husserl e in quel testo che cosa viene messo in evidenza viene messo in evidenza quella che per Husserl è forse la strada per uscire per avere un fondamento cioè il fatto di essere di avere la coscienza interiore del tempo fondamentalmente un agostinismo per Heidegger e Heidegger di fatti si legge fra le righe Heidegger c'è la critica decisa al fatto che Husserl dice che forse noi possiamo avere la coscienza interiore del tempo e invece vi è il discorso che è stato fatto prima da Brentano e già ancora prima da Herbert sulla dilatazione o no della temporalità dell'adesso siamo condannati o no all'istantaneità o ci possiamo proiettare al di là dell'istantaneità ci possiamo proiettare al di là dell'istantaneità ma con il senso della finitezza della negazione e questo viene queste lezioni sulla coscienza interiore del tempo vedono Heidegger che le pubbliche in modo un po' riluttante perché non è assolutamente d'accordo con le posizioni di Husserl e in realtà è più vicina alle posizioni se volete del radicalismo alla Kierkegaard quindi c'è sempre questo tipo di il problema è sempre diciamolo pure in modo spicciolo è sempre quello c'è la soggettività o no sì ma è transeunte è sempre mutevole ci sono sempre siamo sicuri di essere sempre gli stessi niente affatto capito è un po' e di fatti su questo lo accennavo prima su questo si potrebbe vedere questo sarebbe anche interessante un eco addirittura di James e di principi di psicologia di James il discorso sul flusso della coscienza ma per una ragione oggettiva che il discorso di James sul flusso della coscienza viene criticato fortemente dai brentaniani e ci sarà un allievo di brentano che lo lo critica fortemente e c'è il fatto anche che James ha un eco nella filosofia tedesca addirittura certi studiosi nazisti ma questo diventa una preziosità che è inutile stare a approfondire siamo d'accordo o no? sì, l'importante è mettere soprattutto in luce il fatto che Heidegger è contraddittore nel momento in cui cerca il secondo Heidegger di andare oltre i finiti della finitudine però ripetisce sempre questo suo attaccamento sostanziale al finito sì ma in Gersen Heidegger un testo molto illuminato dell'ultimo Heidegger lui dice che parla di questo abbandono delle cose nel senso dubbio sia di allontanarsi da esse sia anche di concedersi ad essi incondizionatamente e c'è questa ambiguità continua però c'è questa ambiguità a parte che da un certo punto in là veramente Heidegger diventa predicatorio e basta a mio parere ma questo però che cosa c'è l'abbandono è sempre l'abbandono della propria soggettività individuale è una forma di misticismo negativo c'è il punto fondamentale credo che sia abbastanza di fatti quello anche più più drammatico se vogliamo capito è quello della distruzione capito che può avere declinazione diversi può essere anche il Brutum Boden nazista capito può essere appunto il discorso tenuto dagli ufficiali che hanno combattuto a Stalingrado e è tornata a fronte tanto c'è appunto la conflagrazione universale capito ci può essere anche questo come ci può essere appunto questo tono un po' più alla una forma di parodia di Schopenhauer addirittura la forma per cui si spiega capito come il discorso tedescheriano certamente è stato seducente per tanti ora può essere seducente anche per fra poco per gli Hare Krishna capito no ma è così capito perché c'è questo l'abbandono forme di buddismo d'altra parte è anche vero che voi sapete quante traduzioni di Heidegger esistono in giapponese undici capito quindi e perché c'è indubbiamente poi c'è quel filosofo giapponese che è stato anche tradotto ci sono anche in italiano diverse cose Nishida ecco che ha avuto una notevole così ci sono le sintonie del resto Heidegger insegnava a sciare nella foresta nera agli studenti giapponesi che andavano a seguire anche Husserl c'è questo direi proprio è lì la chiave ma è una chiave diciamo è una chiave di carattere direi culturale è questa attenzione per la dimensione del mistico ma in tutte le sue declinazioni poi Otto Das Heidegger sul sacro pubblica non mi ricordo mi sembra nel 28 un libro intitolato è anche tradotto italiano mistica d'Oriente e mistica d'Occidente dove c'è di tutto capito c'è veramente di tutto ma i libri ma c'è poi una collana in 13 volumi viene pubblicata nell'immediato dopo guerra e che poi è stata ripubblicata anche da Zurkamp negli anni 80 che è intitolata una collana sono 13 volumi è intitolata Der Dome il Duomo dice der deutschen i libri della mistica tedesca ha una diffusione enorme questa collana e quindi esce dal 19 al 22 e l'idea è di dire che alla radice della Germania filosofica c'è il pensiero diciamo c'è il la dimensione del mistico che nasce però dalla tradizione cristiana chi sono i libri della mistica tedesca ora mi ricordo quasi tutti quanti c'è Hamann Eckhart Tauler Zeuse e poi c'è Keplero Armonici Mondi c'è Fechner lo Zenda Vesta quindi poi c'è naturalmente Eckhart ve l'ho detto poi c'è Reusbroeck la mistica renana che diceva perché fiorisce la rosa la rosa è appunto Zeuse capito ma capito Zeuse e poi ma capito un altro testo importantissimo è appunto il Cherubisches Van D'Arman di Angelo Zilesius che è un libro che è quello che dice la rosa non sa perché fiorisce ma fiorisce e che è tra l'altro un predicatore fortemente antisemita insomma quindi c'è tutto questo e poi tra l'altro paradossi tra i paradossi ma del resto scusate forse l'avete presente che i lettori di mistici tra i grandi lettori di mistici che ne prendono le distanze però ne sono affascinati che abbiamo Schopenhauer e Nietzsche Schopenhauer dice Schopenhauer è un grande scrittore oltre ad essere pieno di ironia Schopenhauer dice mi piace un troppo però e quindi non li devo leggere molto capito la storia dell'anno Luntas è chiaro a questa ovviamente ha questa radice qui e lo stesso per Nietzsche Nietzsche lo dice in una maniera un po' diversa dice ma sostanzialmente dice che fra lo scetticismo e la mistica c'è abbastanza dei punti di vicinanza perché come dire sono posizioni che radicalizzano e Husserl con questo se volete un aneddoto importante un aneddoto relativamente importante ma fra le personalità vicine a Husserl che Heidegger proprio detesta un atteggiamento anche odioso vi è Gerda Walter Gerda Walter è un po' una donna un po' particolare insomma comunque è una che fa un lavoro sulla mistica dal punto di vista fenomenologico a metà degli anni venti e Heidegger la tratta malissimo la tratta malissimo e appunto li rimprovera che cosa? non di studiare la mistica ma di rimanere irretito c'è sempre questo tipo di atteggiamento lei ha fatto riferimento diciamo all'interesse di Heidegger per problema teologico e diciamo alla pressione mi pare ha usato questa espressione diciamo oggettiva del mondo cattolico ma diciamo del dibattito teologico del novecento ora sicuramente è vero anche nella direzione in Bersa gli interessi per Heidegger mi viene in mente Rudolf Bultmann Tillich questo nel mondo protestante nel mondo cattolico Rahner mi viene in mente un'affermazione di Carbart relativamente all'interesse di Costoro soprattutto dei due protestanti per Heidegger una domanda che si fece quando finalmente diventeranno credenti e diventeranno coerenti no cioè visto che hanno questo interesse per Heidegger come dire forse non sono ancora credenti quando finalmente si convertiranno ecco questa diciamo prendiamola come battuta la domanda che volevo fare ecco Heidegger e Carbart Carbart dice dibattito teologico del novecento sicuramente Carbart è centrale è centrale per i protestanti ovviamente è centrale anche per il mondo cattolico mi viene in mente Baltasar ecco allora Martin Heidegger e Barth il Barth che nel 22 pubblica la seconda edizione del commentario all'epistola romana il Remerbrief ecco come si pone di fronte a quella teologia che al di là del suo modo chirurgordiano è anche verticale di presentare ed apporto di un essere umano ha tante risonanze per esempio nella formazione di Kant c'è sicuramente un elemento scusi di Barth c'è sicuramente un elemento neocantiano forse più versante etico che teoretico ecco questa era senta allora io aggiungerei al nome di Barth aggiungerei quello di Schweitzer Albert Schweitzer il dottor Schweitzer che non solo perché cioè voi siamo più o meno cioè abbastanza qualcuno più giovane ma qualcuno è coetaneo mio quindi per noi il dottor Schweitzer no ora non faccio per parlare del dottor Schweitzer ma il dottor Schweitzer è quello di Lambarrenet dell'ospedale ma in realtà oltre ad essere un organista è anche uno studioso di teologia notevolissimo e che pubblica negli anni 20 un libro su Paolo capito è intitolato La mistica dell'apostolo Paolo capito ora quello che lei diceva questo ve lo dico così come notizia l'autore di un libro molto bello la sua dissertazione di laurea sul giovane Heidegger è Carl Ehman che è un cardinale di Santa Romana Chiesa è stato presidente della conferenza episcopale tedesca e ha avuto delle aperture notevolissime nel campo non è un libro filo heideggeriano è una monumentale dissertazione tenuta all'università gregoriana negli anni 60 questo chiusa la parentesi allora dicevo perché ricordavo Schweitzer perché appunto è centrale Paolo centrale Paolo e appunto la lettera ai Romani ma però anche la lettera ai Corinti la lettera a Tela Saronicesi comunque tutto Paolo è centrale perché perché tra l'altro nella posizione heideggeriana c'è un aspetto che io così l'ho toccato ho semplicemente menzionato però è importante anche l'atteggiamento di interesse per la filosofia di Heidegger che hanno filosofi ebrei e che sono alle preso con il problema dell'assimilazione e quindi con il confronto fra la tradizione del Vecchio Testamento tra i due monoteismi insomma diciamo o all'interno del monoteismo quindi e questo ho ricordato nato ma ce ne sono tanti pensate a Rosenzweig ecco tanto per prendere uno o per prendere uno molto recente Schurman che è questo studioso era un gesuita francese anche lui appunto però anche ebreo quindi c'è tutto Heidegger ha avuto molti allievi ebrei però venga al punto allora perché dicevo Schweitzer perché dicevo Paolo e perché come giustamente lei ha chiamato ha detto quello doveva essere detto il neocantismo perché sono tutti si ritorna al discorso che facevamo un po' prima sono tutti pensatori al centro del quale sta il problema cioè diciamo non al centro del quale sta il problema per il quale è quasi una certezza quella della persona individuale è questo il punto e è il punto che spiega anche come per Heidegger sia importante la cosiddetta Kierkegaard Renaissance però è importante come stimolatrice di questioni per il discorso sull'angoscia sul ciò che mi attende per il discorso pascaliano se volete per il discorso della decisione che deve avvenire riprendendo appunto l'immagine paolina come un battito di ciglia però con Kierkegaard Heidegger non va più in là di tanto perché Kierkegaard che piace anche a Jaspers da capo c'è appunto pascal ci sono io nella mia finitezza nella mia solitudine e però appunto ci sono io come persona come persona autocosciente come soggetto etico diciamo tutto quello che si vuole e Paolo vuol dire anche questo capito Paolo che dice bisogna avere come si chiama la mente e il cuore di Cristo c'è appunto sempre questo diciamo potremmo dire quasi una battuta il superamento la convinzione del superamento della differenza ontologica attraverso appunto il radicalismo della fede paolina quindi ecco lì proprio c'è una distanza probabilmente assolutamente incolmabile perché in Heidegger c'è questo nichilismo che che cresce ora ci sarebbe da dire e questo appunto è di fatto a complicare le cose perché poi bisogna essere onesti per Barth non per Barth ma l'ambiente in cui Barth si forma è un ambiente in cui c'è c'è questa forte componente neocantiana cioè sostanzialmente diciamo l'imperativo categoria il fatto il volere buono la religione non solo la religione ha i limiti della ragione della ragione ma c'è anche un'altra componente che è più complicata c'è il fatto che c'è una parte della teologia protestante non quella cattolica che lì appunto ci sono anche le differenze sono cioè ci sono differenze e nello stesso tempo continue contaminazioni c'è il fatto che una parte della teologia protestante è attenta nei confronti di Nietzsche addirittura il discorso di il lecce homo addirittura c'è un pastore che addirittura dice che Nietzsche è il vero Cristo capito sempre no capito ma siamo nei vaneggiamenti se volete ma non dico nei vaneggiamenti perché è un peccato di dogmatica poi si deve andare a confessare no e perché non torna proprio perché insomma c'è poco da fare se in Nietzsche c'è una tendenza insomma ad avere molti dubbi sull'individualità autocosciente insomma ecco quello però volevo dirvi e c'è a complicare questo discorso facevo appunto della discorsa edegheriano sul nichilismo c'è il fatto che lui a un certo punto quando comincia a leggere davvero Nietzsche e poi sono i due i due volumacci quelli su Nietzsche ha una sorta di crisi esistenziale questo appunto è dovuto ma probabilmente nella è una crisi esistenziale che lo porta più nella direzione del problema del potere del potere forse nella direzione del senso della storia questo non lo so ecco però dico questo complica cioè se uno deve parlare di Heidegger è il nichilismo il discorso che fino ad ora io ho fatto battendo fondamentalmente sul piano della dimensione diciamo della morale nel caso di dello Heidegger successivo diventa un po' più spostato invece nella direzione della tecnica nella direzione del potere più nella direzione di carattere se vogliamo quasi di filosofia della storia c'è una poesia bellissima su questo purtroppo non credo sia tradotta in italiano una poesia bellissima di Gottfried Ben non quella tutti nota di Nietzsche a braccia a cavallo ma c'è un'altra intitolata Nietzsche su cui si mettono in evidenza i suoi progetti due aspetti il problema dell'individualità e il problema del potere comunque appunto ora tornando io mi sentirei di rispondere in questa maniera capito che con Barth poi però attenzione Barth in fondo è un Paolo capito così diciamo è centrale l'umanità di Paolo ecco è centrale il problema della fede e c'è un altro pensatore con cui però Heidegger ha rapporti perché diciamo con Barth vi è un rapporto tendenzialmente non può non essere conflittuale ma con Bultman il problema della demitologizzazione il problema della storicizzazione allora il problema appunto del fatto di come i miti a che cosa servono perché uno potrebbe dire ormai c'è solo un Dio che ci può salvare e perché non dice ci sono dei miti che ci potrebbero salvare no perché la tecnica ci ha tolto ogni mito e allora forse per assurdo quasi il discorso sul Dio che ci può salvare però ecco il rapporto con la teologia è una cosa complicatissima perché sono un'infinità i teologi che hanno succhiato proprio dal discorso del Gueriano questo questo è il dubbio io ricordavo prima Max Müller ricordato Boltzmann Cerraner e poi c'è anche la teologia cattolica più recente e allora insomma non mi sentirei tra l'altro però poi non ho neanche particolarmente gli strumenti per approfondire o parla forte o viene qui le molte finestre che lei ha aperto per capire la formazione del pensiero di Heidegger per quanto abbia fatto proiezioni oltre è come se fosse stato prevalentemente nelle cose che ha indicato sulla soglia della prima guerra mondiale sulla soglia della prima guerra mondiale la formazione di Heidegger negli anni a ridosso della prima guerra mondiale e si è discusso su Heidegger forse anche troppo su Heidegger la seconda guerra mondiale Heidegger il nazismo Heidegger gli ebrei ecco ma forse non servirebbe ragionare anche su Heidegger di fronte alla prima guerra mondiale cioè è sostenibile appunto col punto interrogativo le chiedo chiarimenti se la prima guerra mondiale già di per sé nell'evoluzione del pensiero di Heidegger rappresenta una svolta per usare il suo linguaggio la svolta del 29 va bene ma una svolta alla prima guerra mondiale come dire ma non tanto i fatti in sé la sconfitta della Germania ma proprio cambia così profondamente il clima culturale il clima spirituale della Germania con la prima catastrofe della prima guerra mondiale che questo ha dei contraccolpi fortissimi sul pensiero di Heidegger gli fa fare un vero e proprio salto una vera e proprio svolta rispetto anche agli anni anteguera gli esempi parallelismi possono essere facili da fare Thomas Mann prima o dopo la guerra è un'altra cosa Freud è un'altra cosa Lucas è un'altra cosa ecco qualcosa di analogo la prima guerra mondiale determina una svolta culturale radicale nel pensiero di Heidegger a essere tempo verrà nel 27 passano ancora molti anni ma lì c'è un salto però chiedo chiarimenti altro punto sempre sulla stessa linea abbiamo giustamente avete sottolineato da Husserl alla tradizione cattolica però nella formazione del pensiero di Heidegger ci si potrebbe leggere una linea che va direi d'ilta i ve per Lucas presente dentro il pensiero di Heidegger e su Lucas in particolare il Lucas anche c'è di storia e coscienza di classe il Lucas pre-marxista e poi il Lucas di storia e coscienza di classe la domanda quanto Lucas c'è nell'Heidegger di essere e tempo leggerle parti sulla vita inautentica leggerle in controluce con le parti sull'alienazione è anche troppo facile è un esercizio scolastico si potrebbe dire però l'impressione è che anche il rapporto con Lucas dopo la prima guerra mondiale non detto magari non esplicitato fino in fondo ma è molto più intenso di quanto non appaia a prima vista però chiedo chiarimenti no no ma senza altro è una domanda molto bella come dire invita a dire tante cose la prima a me piace ogni tanto così ricordarvi certe cose e lo stato maggiore tedesco era molto attento alla cultura e nonostante che Klee che era cittadino tedesco che stava in Svizzera Paul Klee fosse stato richiamato doveva finire un battaglione di prima linea presero siccome si era visto che era già un grappittore e lo fero mandare in un campo di aviazione a tenere una corda per tenere i palloni aerostatici e così venne fatto con altri intellettuali con Heidegger venne fatto lo stesso ma probabilmente perché non si sapeva che sarebbe stato un grande filosofo però anche Heidegger è stato ha fatto la sua prima guerra mondiale no questo tanto per dire delle sciocchezze in un campo d'aviazione in una stazione meteorologica perché era anche un po' deboluce a quel che pare ma a parte questo questo giusto per dire delle sciocchezze no e certamente questo è cioè è importantissimo è vero ma un po' bisogna anche credo metterla a fuoco coincide questo va detto non lo so se c'è un rapporto di causalità però coincide il periodo della prima guerra mondiale con l'allontanamento di Heidegger dalla fede almeno con quello che dichiara di essere e lo dichiara a Engelbert Krebs che era stato suo confessore e che per l'appunto aveva scritto un libro sulla mistica ecco quindi c'è questo allontanamento però dico il trauma quello che è successo con la prima guerra mondiale ovviamente anche per Heidegger è io penso importante non così importante come per altre personalità almeno da quello che l'eco diretta non nei suoi scritti non c'è però uno potrebbe dire che c'è un eco diretta in questo senso che la dissertazione io penso che i primi due scritti di Heidegger cioè i suoi scritti universitari siano molto utili per capire tantissime cose questa è un'opinione che posso avere però sono prima e durante la prima guerra mondiale poi c'è un cambiamento Heidegger si mette a fare altre cose capito proprio si interessa di altre cose si interessa di appunto di situazioni limite di momenti in cui non si sta parlando della psicologia descrittiva e cosa mi succede con l'atto che ho in testa si sarà riempito o no se si riempie bene o meno no si si prende e si comincia a leggere Agostino Paolo c'è l'interesse per chi si comincia a riflettere diciamo sulle visioni del mondo sulla storia questo è verissimo è certamente indiscutibile e per cui vi è un contraccolpo che per cui ha sentito diciamo lo spirito del tempo lo ha sentito molto di più durante nel corso della seconda guerra mondiale dove l'eco è diretta però appunto si potrebbero anche trovare altri indizi però vengo a diciamo a fare questo discorso sinottico a cui lei mi invitava chiamando in causa specialmente Lukacs sì certamente Weber è importantissimo cioè Weber è importantissimo perché è una figura di grande autorevolezza perché pone il problema dei valori perché pone i problemi diciamo pure del ruolo dell'intellettuale e questo Heidegger lo sentirà moltissimo perché Heidegger vorrà giocare un ruolo politico l'accettazione del discorso sul rettorato e poi il tornare indietro dopo il discorso sul rettorato non dovuti al fatto che Heidegger praticamente può stare alla sinistra del partito nazista diciamo pure è vicino più a Römer che ad altri capito e per certe cose è vicino anche a quelli no a Nikitsch no a quelli che sono i nazi bolshevichi no però appunto ha una forma vuole giocare un grosso ruolo politico tant'è vero c'è un saggio interessante intitolato Martin Luther Martin Heidegger quindi si richiama anche al tipo di militanza che il protestantesimo potrebbe assicurare di più del cattolicesimo tant'è vero c'è qualcuno che dice ma quando si decida diventa protestante quindi c'è questa e la cesura della guerra vuol dire anche però più in là questa volontà di svolgere un ruolo politico però appunto il rapporto con Lukács ma c'è un punto di connessione tra i due punto di connessione attraverso una terza persona che è una grande figura filosofica anche se indubbiamente un po' scuro ma per certe anzi molto scuro perché non ha scritto molto però che è stata una grande figura filosofica che è morta durante la prima guerra mondiale Lukács che Lukács Lask Emil Lask scusatevi Emil Lask che è stato era professore Heidelberg un giovane professore Heidelberg anche lui ebreo e che scrive un libro sulla logica della filosofia che è un libro insomma diciamo con sette sigilli oscuro però e poi un libro famoso più di questo intitolato L'idealismo di Fichte e la storia e Fichte capite bene che è un pensatore centrale nella vicenda della Germania forse non lo sapete ma insomma Husserl tiene delle conferenze su Fichte agli ufficiali in licenza dal fronte della prima guerra mondiale Fichte è un pensatore che anche i marxisti guardano con interesse e Lask che è questo giovane professore che viene allievo di Rickert quindi neocantiano si occupa di che cosa di due cose fondate cioè si occupa di questo libro Fichte e l'idealismo e la come si chiama l'idealismo di Fichte e la storia e quindi direte è molto vicino a Lukács che ne è un allievo un ascoltatore tant'è vero che scriverà il necrologio di Lask sulle Kant Studien c'è questo bello necrologio poi ci sono anche dei libri allora il giovane Lukács che pubblica sì nel 23 pubblica storia e coscienza di classe ma ne ha fatta di strada figlio di un figlio di un banchiere che reggeva le sorti della banca di Inghilterra in Ungheria così è diventato uno dei figure della Repubblica dei Consigli quindi nel 23 scrive alla fine di questa esperienza ma alla scuola di Lasca la scuola del neocantismo circolando anche di Heidelberg frequentando Max Weber Lukács che cosa affronta c'è quel libro molto bello tradotto purtroppo molto male che è intitolato L'anima e le forme e nell'anima e le forme noi ci troviamo di fronte ad un libro che dice ma queste sono le cose che poi in parte dirà Heidegger si parla di Hölderlin si parla di Novalis e nel saggio su Novalis c'è un punto abbastanza interessante perché nel saggio dedicato da Lukács a Novalis lo dico perché aiuta a capire quello che poi il rapporto di Heidegger con la religione e altre cose si parla di Novalis e quindi Iena tutti questi giovanotti che vogliono riformare il mondo e lo vogliono riformare seguendo l'esempio della rivoluzione francese ma non avendo la forza politica la forza delle armi dei Sanculotti o anche dell'esercito che vince a Valmé e quindi solo una riforma di testa e però Lukács ripete in questo saggio su Novalis che è la figura romantica per eccellenza ripete una citazione di Schlegel uno dei due fratelli Schlegel Schlegel che poi diventato dopo essere stato idealista e rivoluzionario diventato cattolico e reazionario che scrive così col senno di poi dice eppure dice in tutto questo questo grande movimento di idee che voleva rompere con l'illuminismo e partire con la grande ventata romantica c'era qualcosa di scellerato di empio cioè di volere essere come uomini di essere come dei essere come prometeo capito quindi c'è proprio questo Lukács citando Schlegel dice in questo il tentativo della Germania di rompere con l'illuminismo e di superare l'illuminismo di superare il razionalismo illuministico ha fatto sì che la Germania addirittura fosse quella di prometeo quella per cui si è innescato un movimento per cui non si è usata la ragione ma si è usata la volontà di potenza si è usata la volontà di fare degli uomini dei superuomini e questo Heidegger lo sente certamente lo sente certamente e tutta l'attenzione pernicce è ovviamente maturata su questo terreno e Lukács l'avverte il libro sull'anima e le forme esce poco prima della prima guerra mondiale è un libro di un esteta in gran parte è stato scritto a Firenze tra l'altro a Firenze dove tra l'altro Luca aveva seguito una donna di cui era innamorata che poi muore suicida quindi c'è questa vicenda drammatica dietro e pronto in questo libro sull'anima e le forme vi sono le stesse cose andrebbe letto questo giustissimamente in contemporanea con le dissertazioni di Heidegger per vedere come Lukács così vede delle cose che Heidegger vedrà dopo la guerra però non andrebbe dimenticato anche che più concretamente il pensatore Lask a cui Lukács si ispira e che Heidegger saccheggia a piene mani si interessa fortemente ad una questione si interessa fortemente alla dimensione dei rapporti contrattuali giuridici cioè ci sono delle entità che tengono insieme i rapporti tra gli uomini che tengono insieme la società che sono una sorta di terzo mondo sono degli stati di cose ma che sono fortissimamente vincolanti e il tessuto anche storico sociale si lega è legato e tutto insieme da questa attribuzione di senso e di valore a queste reti di relazioni voi vedete come su questa strada sia molto facile arrivare al discorso lucacciano sulla reificazione e sul problema del valore e sul problema appunto del marxismo e dei problemi di rapporti di produzione la mercificazione e tutto quanto Heidegger è interessato allo stesso tipo di problema ma il tipo di problema appunto dato da questi stati di cose il tedesco li chiama Sachverhalte il modo in cui le cose si rapportano l'uno con le altre però è interessato non tanto alla dimensione della così diciamo giuridica o storica ma dell'assegnazione a questi stati di cose di un valore addirittura a un certo punto dice Heidegger nelle sue dissertazioni e quindi fa capire come è contaminato da questo ambiente a cui è attento anche Lukács forse sarebbe il caso di sostituire la locuzione Es Ist qualche cosa c'è o Da Ist con la locuzione Es Gil qualcosa vale cioè le cose ci sono in quanto mi pongo in rapporto con esse in quanto ne sono parte in quanto hanno per me un interesse e questo è abbastanza interessante per capire come appunto vi è questo terreno comune che poi complice la guerra nel caldo di Lask che muore complice le vicende politiche nel caldo di Lukács che si mette a fare tutt'altra cosa però appunto ci sono questo ribollire è come se comune è come se comune e certamente la guerra è decisiva perché appunto Lukács farà quello che farà insomma in fondo gli eventi politici hanno fatto sì che non sia stata una delle grandi figure filosofiche del novecento perché la testa ce l'aveva e come il resto appunto basta io non lo so ma non tanto basta leggere l'anima e le forme ma anche le libri di estetica insomma lo vedete poi anche questo anche un grande libro libro staliniano se volete ma che donò una conoscenza della cultura filosofica tedesca la distruzione della ragione un libro del 53 pesantemente condizionato dalla guerra fredda però ci sono delle parti io ho fatto un anno un po' un corso in cui si leggeva la distruzione della ragione ah insomma quelle 20 pagine 25 pagine su Heidegger sono di una purtroppo non sono tradotte bene ma sono di una chiarezza vabbè poi ci sarebbe da raccontare anche ci sono altre domande? se poi dovete andare via prima via prima io non voglio obbligare nessuno grazie a tutti